Ciao ragazzi, sono NovoCox2 e oggi siamo qui tornati in un nuovo video oggi ragazzi per voi questo sarà l'inizio del video invece questa sarà per me la fine del video ragazzi allora sono andato in piscina insieme a due amici miei li salutiamo Marco Guerino, gladiatore e suo fratello Matteo ragazzi allora ringrazio soprattutto a loro quindi grazie ragazzi mi raccomando per questo video dobbiamo raggiungere i 10 like per un prossimo video insieme a loro quindi ragazzi vi dico anche di vedere i video di Marco Guerino e gladiatore perché lui ormai iscrivervi al canale vabbè perché mi ho abbandonato il canale quindi vi dico di seguirvi solo i video suoi e quindi ragazzi mi raccomando ora vi lascio il video e buona visione ciao 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 L'acqua è profonda.